Entra in carcere il maggio dei libri. La seconda edizione della manifestazione, inserita con il patrocino del Comune di Sassari nel cartellone del Maggio sassarese, grazie all'associazione culturale Ma Donne, quest'anno ha coinvolto nell'iniziativa la casa circondariale di Nukis Paolo Pitalis e la direttrice Caterina Sergio, dal 12 maggio, aprirà le celle a questo evento. I detenuti parteciperanno attivamente ad ogni singola presentazione con laboratori di teatro e pittura. L'iniziativa, al via ieri sera nella sala conferenze della Fondazione Banco di Sardegna con la presentazione del libro di Antonio Strinna, L'eroe maledetto, proseguirà per tutto il mese con le opere di altri tre autori che saranno accompagnate da esibizioni artistiche.